e ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi finalmente ritorna un moto vlog vi farò vedere appunto un giro che ho fatto settimana scorsa a mio avviso un bel giro anche se non ho riuscito a registrarlo tutto perché è iniziato a piovere poi ho avuto un piccolo problema con l'action cam ma sono riuscito a risolverlo poi a casa fortunatamente comunque anche se non è tutto il giro completo sono passato da un posto davvero davvero bello con delle strade interessanti e vi invito andare a vedere poi per capire bene il titolo di questo video dovete arrivare fino quasi alla fine del video infatti vi invito a scorporarlo tutto a guardarvelo tutto così almeno capirete il titolo il titolo del video e magari lasciate anche un commento ragazzi così almeno capisco anche voi cosa pensate di quello che dirò appunto qua vi lascio comunque se non volete vedere tutto il video il minuto esatto dove inizio a dire questa cosa e niente vi invito a lasciare un commento così ne discutiamo ciao ciao e alla prossima ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video adesso siamo qua in riva al lago di Iseo oggi è giovedì ed è il mio giorno libero quindi andrò a fare un bel giretto l'obiettivo di oggi oltre quello di costeggiare questo stupendo lago è quello di fare anche quattro valli quindi una giornata quattro valli ovvero finito il lago di Iseo passeremo in valcamonica dalla valcamonica prenderemo il passo cioè prenderemo prenderò il passo croce salven che è la prima volta che faccio e non so come sia però ho visto l'altitudine è abbastanza basso sui 1100 metri quindi non dovrebbe essere una strada molto brutta visto che siamo ancora ad aprire e magari c'è rischio di trovare neve sui passi quindi facendo il passo salven scenderemo in val di scalve dalla val di scalve penso che prenderò il passo della presolana sperando che sia aperto quindi dal passo della presolana scenderemo appunto in val seriana dalla val seriana andremo a fare il selvino e scenderemo in val brembana per poi concludere il giro nella bassa bergamasca dove ho casa c'è un pochino di foschia oggi ragazzi quindi non c'è un bel cielo limpido e sereno ma non dovrebbe piovere quando sono nuvoloni minacciosi almeno spero vi ragazzi manca poco anche alla prima settimana di ferie poco meno di un mese anzi poco più di un mese prima settimana che dedicherò a un viaggio in toscana poi vedrò se magari fare anche qualche regione magari l'umbria o vedremo però io mi volevo girar bene la toscana visto che tante cose non le ho viste tipo mi piacerebbe andare a vedere la torre di pisa quindi penso che tutti gli anni farò una cosa del genere la prima settimana magari di ferie me la prendo in primavera o altaprimavera tipo magari fine aprile maggio e la dedicherò magari a visitare un po' l'Italia, il centro Italia mentre le ferie estive le dedicherò a viaggi un po' più lunghi anche all'estero è sempre bello costeggiare il lago di Iseo soprattutto dalla sponda bergamasca che è dalla sponda bresciana non è che mi entusiasma più di tanto pieno di paesi quindi non lo godi appieno c'è un po' più traffico invece dalla sponda bergamasca diciamo che non si trovano tanti paesi in mezzo in mezzo tra Sarnico e Louvre ci sono pochi paesi e le strade sono un po' più belline ok ragazzi adesso sto andando a prendere il passo il primo passo passo qui c'è Salven il tempo non è il massimo però a quanto pare non dovrebbe piovere Val di Scalve ecco qua alto piano di Bormo ok si inizia a salire wow bella sta strada ragazzi ecco qua siamo arrivati a quel di Borno che non è Bormio ma è Borno Borno e adesso vediamo di proseguire per la Val di Scalve e quindi per la provincia di Bergamo che è qui fa cuse fa cuse che è qui nel passe de qui ok ok Val di Scalve Val di Scalve sempre dritto 15 km rocce di Salven eccola qua e vedi che c'era io spero solo che la presa lana sia aperta e che non sia innevata anche se da qua sembra che un po' di neve ci sia anche se non so se è quella più che altro questo attenzione sporco sporco sulla strada che è freddo non so sono mica tutto a posto io ecco qua la croce di Salve dovrebbe essere quella lì questa qua bianca ecco questa croce di Salve che spettacolo comunque davvero una bella strada questa adesso andiamo giù che facciamo che facciamo e arriviamo in Val di Scalve quanti gradi ci saranno adesso vediamo subito 13 gradi e neanche così po' neanche così non so pochissimi dai con i guanti un po' più pesanti ci sta molto meglio ma che spettacolo una formica gigante le mucchine le mucche le mucche ok bello però che bel paesaggio tutto bello montagnoso è il montagnoso è il petaloso allora alla Val di Scalve mancano circa 10 km un po' più che spettacolo proprio questa strada non la conoscevo spettacolare fantastica fantastica non so se siamo già in provincia di Bergamo ma che bello va che bello non ci credo wow che strada che strada spettacolare wow 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 eh sarebbe bello farla anche al contrario guarda qua ecco qua provincia di Brescia è finita e siamo in provincia di Bergamo che bello ecco quella di là che vedete di là è la salita è per salire su in Presolana che è là wow che spettacolo davvero bellissimo beh la Val di Scalve a mio avviso non ha uguali davvero da qua c'è un mega burrone wow wow guarda qua ma cos'è sta roba cos'è sta roba cos'è ah venite a farlo sto passo sto sto giro qua perché davvero magari dalla telecamera dalla telecamera non rende l'idea secondo me wow wow mi sa che arriviamo sotto di là o addirittura all'imbocco non lo so non so dove arriviamo sinceramente ve lo dirò alla fine di sta discia zona ma in teoria non dovrebbe esserci neve su in presolana in presolana però boh a meno che l'abbiano sparata non ne ho idea al massimo farò la presolana con la neve testeremo la moto sulla neve probabilmente arriviamo dove ci sarà l'imbocco della presolana quindi scesi scesi da da qua si partirà subito per la oh di aina si partirà subito per la presolana complimenti a questo qua che sta scendendo in bici che vuol dire che l'avrà fatta anche a salire ecco ragazzi sempre rispetto per gli altri utenti della strada soprattutto per i pedoni e per i ciclisti perché sono gli utenti deboli della strada per me anche i motociclisti sono deboli perché anzi sono forse quelli che rischiano insieme ai ciclisti di più quindi sempre rispetto perché il rispetto porta rispetto sempre e comunque quindi ricordatevelo ecco qua bergamo cacchio piove porca di quella trota devo fermarmi assolutamente a togliere l'action cam ok ragazzi devo togliere l'action cam quindi ci vediamo più tardi e vi do notizie notizie a 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 Grazie.